Ciao a tutti, questo è il secondo video dedicato alla cinetica chimica. Nel video precedente abbiamo visto che la concentrazione è un fattore che influenza e modifica la velocità di una reazione. Ci sono però altri fattori che fanno variare la velocità di una reazione. La natura dei reagenti, la temperatura, la superficie di contatto tra i reagenti, se questi sono in fase eterogenea, e l'eventuale presenza di un catalizzatore. Iniziamo a vedere la natura dei reagenti, ovvero forza e numero dei legami interatomici nelle molecole dei reagenti, considerando tre esempi. Qui abbiamo la prima reazione, che è una reazione di doppio scambio in soluzione acquosa, e poi abbiamo due reazioni di ossigeno in fase gassosa, che hanno in comune un reagente, che è l'ossigeno. La reazione in soluzione acquosa non comporta la rottura di legami, perché i reagenti sono già dissociati in ioni. Questa reazione in effetti è, diciamo così, istantanea. Le reazioni di ossidazione del diossido di zolfo e del metano implicano la rottura di tre legami covalenti nel diossido di zolfo e di ben quattro legami covalenti nel metano. Quindi le reazioni che non implicano la rottura di legami, come la prima in soluzione acquosa, sono veloci, mentre quelle che comportano la rottura dei legami, in questo caso le reazioni di ossidazione, sono più lente. Qual è la differenza tra le due reazioni di ossidazione? Hanno diversa velocità perché questa dipende dal numero dei legami e dalla loro forza. Ci sono tre legami nel diossido di zolfo e quattro nel metano. E inoltre, il legame covalente sigma è più forte di quello pi greco. E dal momento che nel diossido di zolfo sono presenti due legami sigma e uno pi greco, mentre nel metano sono presenti quattro legami sigma, tra queste due la prima sarà veloce, mentre questa sarà lenta. Diciamo che minori sono la forza e il numero dei legami interatomici nelle molecole dei reagenti, maggiore è la velocità della reazione chimica. Per quanto riguarda la temperatura, la velocità di reazione aumenta sempre con l'aumentare della temperatura. E attenzione, questo vale sia per una reazione endotermica sia per una reazione esotermica. In linea di massima, possiamo considerare che è sufficiente un aumento di temperatura di una decina di gradi per raddoppiare la velocità di una reazione. Per quanto riguarda la superficie di contatto, nelle reazioni in cui un reagente è solido e l'altro è liquido o gassoso, la velocità del processo dipende anche dall'estensione della superficie di contatto tra i reagenti stessi. Eventuale presenza di catalizzatori. Intanto, che cos'è un catalizzatore? Il catalizzatore è una sostanza che è in grado di accelerare una reazione chimica senza consumarsi durante la trasformazione. Il problema è che non c'è nessuna regola per sapere quale catalizzatore sia più adatto per una data reazione. Infatti, molte reazioni, prima di trovare la giusta combinazione di catalizzatori o il catalizzatore giusto, richiedono di testare diversi possibili catalizzatori. Sia l'azione dei catalizzatori sia l'aumento di temperatura aumentano la velocità di reazione. Una volta che è stato individuato il corretto catalizzatore, l'uso dei catalizzatori è più vantaggioso rispetto all'aumento di temperatura perché il ricorso a temperature elevate implica sicuramente un costo energetico. In ambito biologico sono gli enzimi che agiscono come dei catalizzatori. Questo è un aspetto importante perché, se ci pensate, nel nostro organismo non possiamo aumentare la temperatura per aumentare la velocità di una reazione. È necessaria quindi la presenza di catalizzatori e questi catalizzatori sono proprio gli enzimi. Ancora una considerazione, i catalizzatori possono modificare solo la velocità delle reazioni spontanee. Se la reazione chimica non può avvenire, la presenza dei catalizzatori è ininfluente. Nel prossimo video, parlando di urti e di energia di attivazione, torneremo sul concetto di catalizzatore e della modalità con la quale agisce un catalizzatore. Intanto, per concludere, diciamo che sono omogenei i catalizzatori che si trovano nella stessa fase dei reagenti e sono eterogenei i catalizzatori che si trovano in fase diversa, cioè in stato fisico diverso, dai reagenti. Spero che questo breve video vi sia stato utile. Io vi chiedo come sempre di lasciare un like e di condividere l'esistenza del canale. Vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!